allora, ma pensate che vincete? noi no noi vincite senza gridare senza gridare parlate cosa ne pensi tu? vinciamo o no? secondo me vinciamo secondo me perdiamo bravo tu sette a cinci sette a cinci cinque a zero perdiamo 20 a zero ragazzi 20 a zero è scacci così Borgine 1 a zero tu segni per calma? si un gioco c'è uno nooo manco le vedi ecco hai mettuto le ciali 10 a 0 e tu quanto vinciamo? 10 a 0 tu secondo te quanto vinciamo scusami? 100 e come no? ma si pareggiamo allora ve la fate una volta con Antonella? 10